Hey what's up ragazzi in questo nuovo video io sono Amel di Dragonsteak TV come avrete visto ragazzi nella mia pagina facebook ufficiale Dragonsteak ho già annunciato che la Supercell sta lavorando a dei nuovi sneak peek per Clash of Clans e proprio oggi ragazzi 14 settembre il primo sneak peek annunciato dalla Supercell che sarà il fulmine livello 7 come sempre ragazzi la clip che state guardando fa parte dell'account test degli sviluppatori della Supercell molto importante ragazzi il 24 ottobre quindi il prossimo mese giorno 24 ci sarà un grandissimo update un grande aggiornamento da quanto ha detto la Supercell che verrà annunciato nel ClashCon che forse molti di voi avranno già sentito ma passiamo ragazzi subito a vedere un po' come funziona questo incantesimo livello 7 grande novità ragazzi per quanto riguarda l'incantesimo fulmine ci sono state delle modifiche infatti i fulmini che cadono dal cielo la Supercell ha ben deciso di farli cadere più vicino come vedete in questa clip butta il fulmine sulle truppe del castello nemico e come vedete il range è più ristretto inoltre ragazzi l'incantesimo fulmine di livello 6 è ora disponibile per un municipio livello 9 e all'incantesimo di livello 5 e di livello 6 è stato aumentato il danno adesso invece guardiamo l'incantesimo fulmine livello 7 buttato sulla difesa aerea come vedete di alto livello vediamo che butta il primo e gli fa metà danno ne butterà adesso un secondo incantesimo livello 7 fulmine vedete qui che sta per morire di pochissimo non muore ma come vedete ragazzi sembra che questo incantesimo fulmine livello 7 ci aiuterà a distruggere più facilmente gli edifici ma anche le truppe del castello nemico in questa parte della clip invece guardate come il range dei fulmine che cadono dal cielo è più ristretto qui è una parte a rallentatore che cosa ne pensate ragazzi di questo primo sneak peek perché sembra che ce ne saranno altri fatemi sapere cosa ne pensate qui in un commento ma soprattutto ditemi a che livello avete voi l'incantesimo fulmine e noi ci vediamo ragazzi alla prossima flash news riguardo agli sneak peeks di clash of clans ciao ragazzi